Buonilandia 2015, siamo con Pierco Lupinetti, la Lombardia ha appena vinto il Presidente. E' sempre una bella soddisfazione e ti dico che mi piace quando i ragazzi vincono, il merito è solo loro, dei loro struttori e dei nostri tecnici, però veniamo proprio per vincere. Quello che conta è che veramente rispettere ci sono quei valori, soprattutto per i giovani, che troviamo un ambiente sportivo e il rispetto intanto per gli animali, che si formi squadra tra ragazzi per un domani, questo è quello che noi auspichiamo. Però il fatto di vincere è sempre una bella cosa, perché anche noi lo sentiamo, per cui grazie a loro, spero che si ripetano questi appuntamenti, con questi risultati. Anche io abbiamo vinto la Coppa Italia. Una domanda brucia pelo, due parole, giudizio sull'operato del Presidente Orlandi nei primi otto mesi. E' sicuramente difficile anche dare un giudizio perché ha trovato una situazione difficile, cosa per loro, per la gestione, però c'è molto impegno. L'anno è dalla mattina alla sera in federazione, presente dappertutto, stanno lavorando e cercando di fare interviamenti, che vanno tutti ben ponderati anche prima di uscire. La voglia di fare è molta e noi siamo in attesa di poterli poi mettere in pratica nella maniera anche accettata e dovuta da chi si lavora. Questo è importante. Grazie mille. Prego, grazie a voi.